Tre concerti a ingresso libero al teatro Turroni, gioiellino di Sogliano, per arricchire le domeniche della fiera del formaggio di Fossa. E questo lo spirito della rassegna suono divino, promossa da due musicisti riminesi, per gli appassionati ma non solo. Ci sono durante la mattina le bancarelle dei prodotti tipici, si possono visitare le fosse dove vengono informati i formaggi e poi di conseguenza possiamo andare a vedere anche i piccoli musei che ci sono all'interno di Sogliano, il museo del disco, il museo dell'arte povera, mangiare buoni prodotti romagnoli, caserecci e infine alle 3 e un quarto c'è il concerto in teatro a ingresso libero, che è appunto questa rassegna suono divino. Domenica apre il duo Paul Indemith, pianoforte e inedito per la rassegna Oboe, con musica di Gershwin, Piazzolla e Bernstein. Il 29 novembre artisti internazionali con il Venice Piano Duo, musiche di Mozart, Schubert e Stravinsky, chiusura il 2 dicembre con il duo Cesaretti, Tura, in un repertorio di Bach, Tura e Rossini, dopo i concerti degustazioni di prodotti locali di qualità, musica come intrattenimento ma anche momento di incontro e riflessione. È una lingua che non ha filtri, non ha barriere, supera ogni limite che possa essere dettato da politiche, religioni o rasse o lontananze, quindi la musica arriva ovunque, ha una capacità universale di toccare chiunque, a modo suo però chiunque. Abbiamo scelto in modo principale lo strumento, il pianoforte, che forse è lo strumento più universale proprio per Antonomasia, perché abbraccia tutti i registri di tutti gli altri strumenti e quindi il pianoforte a quattro mani proprio può ripercuotere un'orchestra con le quattro mani degli interpreti.